Mi chiamo Emanuele Caserio, sono un attore di cinema e tv e quello che sto per raccontare è dell'incredibile. Avevo bisogno di staccare un po' la spina prima di ricominciare la mia vita sul set e quindi ho deciso di andare in vacanza in Puglia, in una delle regioni più belle del mondo. Sono stato a Monopoli, tra il mare, il cibo, la calda ospitalità. Ma quello che ha reso il mio viaggio unico, sono stati i miei risveglie. Il secondo giorno ero già più preparato. Andiamo a conoscere la più amata di Monopoli. La più amata di Monopoli. Io mi sono fidato. Questa è un'edicola votiva. Ce ne sono tantissime lungo tutto il centro storico e sono di epoche e fatture diverse. Mi ha spiegato che l'occhio deve essere centrale perché lo spettatore in qualsiasi punto si mette deve sentirsi osservato da lei. Guardava sempre me. Ma questi sono scheletri? Scheletri narranti vorrei dire. Infatti poi entrando... Vedi, alla morte si contrappone la vita del barocco. Andiamo di qui. Achille! Ma dov'è finita Ghille? Eh! Ghille! Però è anche vero che quando ti perdi scopri le cose più belle. Andiamo! E' lei la più amata di Monopoli. E' lei che protegge l'intera città. Mi sarà il 2010 alla parte di Monografia. E' lei che non è consapev Questa è come si chiama? Focaccia? Focaccia. Questo pomodorino che si pulla nell'impasto con un poco di olio giusto. Delizioso. Se ci ripenso... E domani? Che succederà?